La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati con la nostra rassegna stampa, oggi venerdì 26 novembre. Partiamo come di consueto con i titoli del mattino. La prima pagina nazionale. Taglio tasse tutti i risparmi. Accordo nella maggioranza, le aliquote IRPEF diventano 4, no di Confindustria, i maggiori benefici per i redditi del ceto medio, fino a 1000 euro all'anno già dal 2022. E poi nella giornata di ieri, l'anniversario, il primo anniversario della morte di Maradona per sempre, la statua allo stadio, la fiaccolata ai quartieri. Diego Rivive, generoso Picone, Angelo Rossi, Pino Taormina, Roberto Ventre e tutti i servizi dedicati al grande numero 10 del Napoli, qui in foto Bruno Giordano, che mette la fascia al braccio alla statua dedicata al 10 argentino. E ancora cambiando argomento, via libera ai vaccini per i bambini, la svolta dell'EMA tra 5 e 11 anni, corsie speciali negli hub. E a Salerno, luci in bilico e braccio di ferro sul piano sicurezza, dubbi della prefettura, ma il comune va avanti, oggi è in programma l'accensione. Di taglio basso i clan e l'esportazione dei soldi, addio spalloni, ci sono i bitcoin, Ercolano, scoperto un cavo della camorra. Lasciamo la prima pagina, ma proseguiamo sempre sul mattino, andiamo a vedere. Il primo piano in questo caso è sulle nuove tasse. Fisco, le aliquote, IRPEF diventano 4, no di Confindustria, accordo tra i partiti sul taglio delle imposte, cambiano gli scaglioni e via il bonus 100 euro, il prelievo sui redditi medicine del 35%. Gli industriali dicono, così trascurate le imprese. Nel dettaglio, l'IRPEF, la principale imposta sulle persone fisiche, cambia profondamente, non un semplice taglio delle aliquote, ma una vera e propria riforma alla quale si aggiunge anche un primo modulo dell'abolizione dell'IRAP. Ma l'intesa raggiunta ieri dei partiti è stata immediatamente bocciata da Confindustria. Per gli industriali le ragioni delle imprese non sono state prese in nessuna considerazione e la riforma, hanno fatto sapere, non ha visione del futuro. I tagli sarebbero impercettibili, da qui la richiesta di una convocazione da parte del Governo. L'accordo politico raggiunto al tavolo tra i partiti di maggioranza e il Governo, convocato al Ministero dell'Economia da Daniele Franco, per ora però regge. Entro aprile, altra revisione e riduzione a tre fasce, 23%, 33% e 43%, ma serviranno 4 miliardi in più. Secondo le stime del Ministro dell'Economia, nessun contribuente sarà penalizzato, però intanto ci sono, come detto, le critiche da parte di molti e anche dei sindacati. E poi c'è l'intervista a Gilberto Pichetto. È soltanto il primo passo, l'IRAP verrà cancellata, poi rimoduleremo l'IVA. Il Vice Ministro allo sviluppo economico, dice, in Senato scorrettezza contro FI, rimasta senza relatori sulla legge di bilancio. Proseguiamo ancora e diamo lettura della prima pagina del mattino dedicata a Salerno e Provincia. L'apertura in questo caso è dedicata a luci d'artista e braccio di ferro. Il Comitato per l'Ordine Pubblico, piano sicurezza insufficiente, fa sapere il Comune. Oggi l'accensione, dice, il gestione del traffico in misura anti-Covid. Ci sono criticità, ma Tringali dichiara niente di sostanziale una corsa contro il tempo per garantire la sicurezza delle luci d'artista. Sicurezza che allo Stato, secondo il Comitato per l'Ordine, la sicurezza pubblica non c'è. Il piano è stato presentato in Prefettura solo mercoledì, eppure dal Comune confermano che l'evento si farà e le luci si accenderanno già oggi. Sempre di taglio alto, maltempo, bomba d'acqua sul lago e a cava, scuole chiuse e incubo frane. Di lato l'inchiesta cooperative, zoccola di nuovo in procura, un faccia a faccia, lungo tre ore. C'è l'inchiesta di Benevento, del mese, pressing sul funzionario, bisogna fare veloce veloce. Sul centro pagina c'è la Salernitana, facciamo punti con ogni risorsa, Salernitana a Cagliari, con l'Antuono senza il trequartista. Cambiando argomento per la pandemia, effetto super green pass, tutti in fila per il vaccino, impennata dopo la stretta del governo, in tanti per la prima dose. Aumentano però i contagi e una vittima si registra a vietri. E c'è il giallo a Palazzo di Città, ventura positivo in municipio a Salerno, tutto falso o il via libera dell'ASL fa sapere. E ancora di taglio basso l'incidente di Corso Garibaldi, fiori gialli per la Dio Agigi, la moglie o il cuore vuoto, e poi la tragedia di Agropoli, calvario tra gli ospedali, muore, c'è l'indagine. E ieri è stata anche la giornata contro la violenza sulle donne, la storia, botte dall'ex, io salva ma lui ancora libero. E adesso momentaneamente lasciamo il mattino e diamo lettura della prima pagina del quotidiano alla città. Vediamo. Il primario è andato in pensione, chiude un reparto del Ruggi, porte sbarrate a chirurgia toracica e malati di tumore, dirottati tra Napoli e Potenza. Di taglio alto l'inchiesta, zoccola dai PM, parla per tre ore, secretati gli atti. E poi del mese gli amici, regione nel Mirino e a Salerno quarantena violata, ventura denunciato. Proseguendo a Salerno, lucida artista, la partenza in sordina, caos security, arrocca d'aspide, stop ambulanza. Ma l'ASL paga un'associazione. E poi a Torre Orsaia, fuggita da Kabul per dare un futuro alla mia bambina, c'è la testimonianza diretta di una donna che vedete in foto. Di taglio basso sfida salvezza a Cagliari per la salernitana, per cui si tratta di una vera e propria finalissima. Colantuono si gioca il posto senza riberi. Servono punti, dice, stadio arechi, lavori finiti, sopralluogo per più posti per il match contro la Juventus. Lasciamo il quotidiano La Città ed ora la lettura del quotidiano Le Crona, che è la prima pagina ovviamente. Vediamo l'apertura. Quattro ore in procura per Zocco, la nuova interrogatoria, assegni pagati per le regionali e villaggio di Babbo Natale. Atti secretati dopo la verifica dei riscontri alle sue precedenti dichiarazioni. L'imprenditore delle copp avrebbe svelato anche nuovi particolari del sistema. E poi, proseguendo, Tringali scarica l'aggiunta. Atti non miei. Celano, lo accompagniamo noi da Roberti. Troppe inchieste mai partite. Il contestato assessore alla trasparenza prova a difendersi. E poi, tra le altre notizie, a Salerno Ventura positivo al Covid girava in comune. È stato denunciato. Super Green Pass, i ristoratori contrari. E fanno sapere, continuano a penalizzarci. E poi, cambio nell'Udc per la politica. Ernesto Sica diviene coordinatore. Per le provinciali, il PD candida Galdi. Lista unica tra Campania Libere più Europa e tra 5 Stelle e l'EU. Ed ora il quotidiano del Sud. La mala sanità in apertura al ruggi come in un lager. Sul fronte Covid sale l'incidenza. Ieri 179 contagi nel Salernitano. Denuncia di un anziano abbandonato al pronto soccorso. E poi c'è il caso Ventura positivo. Mai messo piede nel municipio, però fa sapere. C'è l'allerta meteo, disagi nell'agro con circunferma. Oggi scuole chiuse. SOS dalla costiera. E ci sono tensioni, stato d'agitazione comunali contro l'amministrazione a Salerno. Sul centro pagina stasera a match salvezza decisivo per la Salernitana. Decimata a Cagliari. Su Colantuono c'è l'ombra di Castori. Potrebbe esserci dunque un ritorno del mister della promozione in Serie A. Noi adesso invece ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, però torniamo tra pochissimo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Restate con noi. Ben ritrovati con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Ritorniamo sul mattino e sulle notizie dedicate al Salernitano. Vediamo. Il primo piano in questo caso su pandemia e assistenza. Effetto Super Green Pass e di nuovo corsa ai vaccini. Da 1500 a 6000 inoculazioni al giorno con un importante recupero di prime dosi. Altri 179 positivi. Allarme a battipaglia mentre Vietri piange un'altra vittima. Effetto Super Green Pass e aumento dei contagi fanno volare le vaccinazioni nel Salernitano. Sono passate infatti nel giro di appena 5 giorni. Da 1500 a 6000 al giorno le vaccinazioni effettuate nei centri vaccinali. Sono 179 intanto i tamponi positivi comunicati ieri all'unità di crisi della regione che portano la conta complessiva dall'inizio della pandemia a 77.972. Preoccupazione a battipaglia dove si sono triplicati i casi mentre un'altra vittima del Covid si registra a Vietri come comunicato dal sindaco Giovanni De Simone. Oggi purtroppo registriamo una nostra concittadina deceduta a causa del virus Covid-19 ed altri tre positivi. Siamo vicini al dolore della famiglia. E quindi per quanto riguarda lo scenario che si profila. Silla 179 intanto i tamponi positivi comunicati ieri all'unità di crisi della regione. Crescono i casi a battipaglia come detto e effettuati a Sassano i tamponi nel Vallo di Diano e gli scolari della prima, terza e quinta elementare del plesso scolastico della frazione Silla dai quali è risultato fortunatamente un solo alunno positivo. Oggi l'amministrazione comunale ha programmato l'esecuzione di tamponi per gli alunni che frequentano il plesso scolastico centrale di Via Croce asilo elementari e medie. Mi preme sottolineare che le date scelte per l'esecuzione dei tamponi sono state dettate esclusivamente da ragioni tecniche chiarisce il primo cittadino Domenico Rubino per rilevare l'eventuale infezione c'è bisogno che sia trascorso il tempo di incubazione da sindaco ma soprattutto da medico ribadisco che in tema di Covid terremo sempre alta l'attenzione. A Fisciano ci sono sette nuovi positivi alcuni di questi appartenenti a un nucleo familiare di un caso positivo rilevato nei giorni scorsi. Lasciamo questa pagina proseguiamo ovviamente sempre sul mattino. Il primo piano sulla manifestazione il caso Luci e braccio di ferro le accenderemo oggi il piano sicurezza presentato in prefettura per Luci d'artista non convince il Comitato per l'ordine pubblico tringali non ci sono cambiamenti criticità non esistono problemi sostanziali una corsa contro il tempo per garantire la sicurezza della Kermess Luci d'artista sicurezza che allo Stato secondo il Comitato per l'ordine la sicurezza pubblica non c'è o meglio il piano è stato presentato in prefettura soltanto mercoledì mattina a pochi giorni dunque dall'accensione delle luci ma ritenuto insufficiente dal Comitato che si è riunito ieri mattina eppure dal Comune confermano che l'evento si farà e le luci si accenderanno già oggi alla fine non c'è niente di sostanziale Claudio Tringali butta acqua sul fuoco e conferma l'accensione per oggi che io sappia afferma l'assessore alla trasparenza e alla sicurezza del Comune di Salerno non c'è nessun cambiamento e agenti in strada gestione del traffico e misure anti-Covid le forze dell'ordine ritengono insufficiente il progetto del Comune ma l'assessore alla trasparenza dice ci saranno controlli nelle zone più calde superati i nodi di tipo sanitario proseguendo e cambiando argomento Zoccola torna in procura tre ore di faccia a faccia con Borrelli e i magistrati anche questo verbale è stato secretato trema la politica l'imprenditore di recente ha avuto un nuovo avviso intanto proprio in questi giorni dopo che la procura ha notificato gli avvisi di garanzia per i mercatini di Natale negli ambienti politici in tanti si chiedono che fine abbia fatto un'altra indagine sorella a quella dei mercatini riguardando infece il villaggio di Babbo Natale una storia poi diventata denuncia venuta fuori in commissione trasparenza all'epoca presieduta dal consigliere Antonio Cammarota anche in questa circostanza la commissione consigliare scoprì che non era stato fatto il bando e che fondamentalmente l'associazione che la organizzava non era senza scopo di lucro ma celava delle iniziative commerciali questa indagine fu seguita dall'antimafia che ordinò la guardia di finanze ad acquistare una serie di documenti di acquisire una serie di documenti al comune e adesso le notizie dalle aree interne della provincia sud di Salerno andiamo a vedere muore a 76 anni dopo un calvario di nove mesi tra ospedale e cliniche la famiglia denuncia e punta l'indice sul primo intervento a Potenza trasferito a Eboli e poi a Nocera ora indaga la procura un'operazione a diversi rico e diversi ricoveri passando per tre ospedali partendo da Potenza fino a Eboli poi solo per 12 giorni all'Umberto I di Nocera Inferiore oltre ad una settimana circa a Villa Chiaruggi poi il decesso la famiglia sporto denuncia chiedendo lumi e ragioni di quanto accaduto al proprio caro AC Queste le sue iniziali un 76enne residente ad Agropoli ad indagare con ipotesi di reato quale omicidio colposo sarà il sostituto di turno a Nocera Inferiore in ragione del luogo dell'eccesso il figlio dell'uomo ha tuttavia evidenziato con una denuncia presentata ai carabinieri di Agropoli di accertare la responsabilità che lui stesso ha debitato ai medici dell'ospedale San Carlo di Potenza a marzo scorso l'anziano effettuò una visita per ricovero a Potenza dopo alcuni esami specialistici fatti ad Agropoli per lui era necessaria un'operazione chirurgica la valvola aortica l'intervento veniva deciso da aprile per aprile ma in ragione di alcune complicazioni e maggiore serenità per le condizioni del paziente era stato poi spostato a giugno poi una serie di interventi che ha portato purtroppo al decesso e poi nel ballo di Diano la bella storia il pellet sequestrato finisce in beneficenza saranno utilizzate per scopi sociali dalla Caritas della diocesi di Teggiano Policastro le 102 tonnellate di pellet poste sotto sequestro nei mesi scorsi dei carabinieri forestali delle stazioni di Buccino e Sicignano degli Alburni la donazione è il frutto di controlli dei militari nell'ambito della filiera di produzione e commercializzazione del pellet si tratta di 6.800 sacchetti già confezionati per un valore commerciale di circa 30.000 euro il prodotto di ottima qualità è stato sequestrato tra l'altro per illegalità legate all'utilizzo improprio dei marchi di certificazione tutto avuto inizio ad aprile scorso quando i carabinieri forestali hanno effettuato degli accertamenti nella filiera di lavorazione e commercializzazione del pellet in alcuni impianti di produzione e distribuzione che usava marchi in modo illegale da qui il sequestro e ad oggi invece si registra dunque questa consegna in beneficenza lasciamo anche questa pagina e adesso lo sport la pagina dedicata allo sport si parla di Salernitana come sempre la giostra con l'antuono rischia tutto stasera Granata senza Riberi si giocano una grossa fetta di salvezza l'allenatore dice dobbiamo andare oltre le difficoltà squadra in campo con il 3-5-2 emergenza totale Veseli non al top ma gioca titolare Saragiolli in difesa Schiavone Castanos assente in mediana in Sardegna 300 tifosi il trainer si affida al tandem composto da Diuric e Bonazzoli vediamo la formazione il modulo il 3-5-2 come detto in porta Belez difesa 3 Veseli Gionberg Gagliolo poi a centrocampo a 5 sugli esterni Ranieri e Zortea in mezzo Obi Di Tacchio e Coulibaly il tandem d'attacco formato da Bonazzoli e Diuric e ancora non basta una Rechi extra-large verso il sold-out con la Juventus corsa contro il tempo per aumento capienza obiettivo 22.875 posti oggi sopra luogo con missione vigilanza ci sarà molto probabilmente una invasione bianconera e noi con lo sport e con il calcio concludiamo questa edizione della nostra rassegna stampa io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata e vi ringrazio